L'Università di Teramo si trasformerà in uno dei più grandi centri vaccinali universitari italiani. 3.800 vaccini al giorno, 16 linee vaccinali operative, 7 giorni su 7. Si parte da lunedì 19 aprile e per inaugurare l'avvio di questa attività arriva il Ministro della Salute Roberto Speranza, che con la sua presenza intende premiare un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, Università, ASL e Comune di Teramo. Trattasi di un'area più importante perché segna una sinergia tra la ASL, l'Università e le altre istituzioni con cui noi intratteniamo dei rapporti costanti. E soprattutto il fatto stesso che il Ministro Speranza sarà qui il giorno in cui inizieremo proprio a fare vaccinazioni in questo luogo, il 19 nella tarda martinata di lunedì, evidenzia l'importanza dell'evento e soprattutto la vicinanza anche delle istituzioni a questa realtà regionale. Nel campus di Unite non ci si vaccinerà solamente. All'atere della campagna di vaccinazione di massa è prevista tutta una serie di eventi culturali ed informativi a servizio della popolazione nell'ottica di Teramo, città universitaria. Questo grande hub vaccinale universitario però non ci sarà solamente la vaccinazione ma anche incontri culturali, eventi. Sì perché appunto è una campagna quindi non è soltanto la semplice siringa. Insomma noi vogliamo informare e come dire anche un po' formare le persone perché è il compito dell'Università. Ma non solo, quindi anche dei momenti di rilassamento, di intrattenimento perché lo spazio del campus ce lo consente anche nel rispetto del distanziamento. Ci sarà un punto ristoro importante quindi sia per gli operatori che saranno tanti, insomma se si devono vaccinare circa 3.500 persone ogni giorno, insomma gli operatori hanno bisogno anche di rifocillarsi. Un piccolo problema continua però ad esistere ed è quello dei trasporti. Raggiungere facilmente l'Università con le parco rimane ancora un obiettivo da centrare. Su questo entra in gioco il Comune di Teramo che promette il potenziamento delle corse. In questo senso anche in funzione proprio del potenziamento della campagna vaccinale, oltre a dare un supporto logistico organizzativo appunto per le sedi come Comune di Teramo, come città capoluogo, metteremo a disposizione anche un servizio di trasporto pubblico locale dedicato, ovviamente che verrà definito e delineato d'intesa con l'ASL, nel senso che dovrà essere coordinato con gli orari della vaccinazione, con i tempi, con le modalità, anche con le categorie che verranno vaccinate, proprio appunto per consentire di rimuovere qualsiasi ostacolo, anche quello eventuale della distanza, per poter effettuare una vaccinazione la più ampia possibile e che non lasci nessuno da solo.